Martedì prossimo, 13 di agosto, ad Atri ci sarà un convegno per la presentazione del secondo volume della collana Atria Civitas Vetusta, volume che contiene i documenti inediti di Nicola Sorricchio. Si riparte insomma con questo racconto, con questa narrazione della storia plurisecolare di Atri. Sì, dopo il primo volume, la storia di Atri durante il Ducato Acquaviva, ho voluto riprendere in questo secondo volume appunto intitolato i documenti inediti di Nicola Sorricchio, il quinto tomo manoscritto dei monumenti adriani di Nicola Sorricchio, storico atriano del 1700-18 secolo, in questo tomo che è rimasto finora inedito. È un tomo molto interessante per la storia atriana in quanto narra tutte le vicissitudini dall'inizio nel 1605 fino alla fine del 1767 del collegio dei gesuiti che fu istituito ad Atri in quegli anni, quindi parla un po' di tutti gli atti che furono fatti per poterli istituire, di come andò avanti appunto la storia perché ci fu raggiunto un accordo appunto tra il comune e i gesuiti per poter usufruire del priorato di Sant'Andrea e quindi di stare lì in questo collegio. Questi patti erano praticamente che i gesuiti avrebbero dovuto istituire anche una scuola, quindi due maestri di scuola per poter permettere ai giovani atriani di istruirsi e in più avrebbero dovuto versare una quota annua al comune per poter sopperire all'alimentazione e al vestiario dei trovatelli che erano presenti in Atri presso l'ospedale di Sant'Andrea che era annesso al priorato. Negli anni si accumulò un debito spaventoso e tra l'altro mentre si era in tribunale per discuterne, i gesuiti nel 1767 furono anche espulsi dal regno di Napoli e quindi finì là e poi il collegio dopo varie vicissitudini ancora tornò in possesso del comune di Atri. Questo convegno alla riapertura delle scuole farà anche il giro degli istituti superiori della città? Ritengo che sia importante che i giovani conoscano anche la storia locale perché sono spaccati di vite importanti che ci permettono di capire da dove veniamo.